Il corpo umano funziona con le proteine, siamo una struttura fondata sulle proteine, tutti i nostri meccanismi biologici partono da meccanismi su base proteica e se non ci sono le proteine adatte, adeguate, ognuno secondo la propria programmazione non si va da nessuna parte, saltano fuori le malattie. C'è da pensare un fatto che man mano che il nostro metabolismo rallenta non abbiamo bisogno di carburante, quindi di zuccheri, di grassi e soprattutto di amidi, di cereali, abbiamo bisogno di pezzi di ricambio e per pezzi di ricambio si intendono sali minerali, vitamine e proteine. La cosa migliore da fare, come del resto quando si hanno tutte, la stragrande maggioranza delle malattie, di trasferire l'alimentazione dalla parte delle vitamine, quindi delle verdure e non della frutta, dei sali minerali, quindi delle verdure e poi delle proteine, perché tutti i meccanismi, tutti i meccanismi biologici, parliamoci chiaro, avvengono con meccanismi che funzionano con proteine, sali minerali e vitamine e invece i carboidrati servono solamente per produrre l'energia, ma i carboidrati si possono trovare in 10.000 altri modi, si possono trovare anche dei grassi, perché se pensiamo che le popolazioni del nord del pianeta e sicuramente persone che vivono in condizioni estreme, non hanno mai mangiato dolci e zuccheri, perché nel nord del pianeta, a parte nel periodo limitatissimo della stagione estiva dove maturano le loro bacche selvatiche, per il resto non hanno assolutamente niente di niente né di amidaccio né di zuccherino. C'è da dire che tutti questi meccanismi su cui si basano le nostre funzioni biologiche sono basate sulle proteine, sui sali minerali e sulle vitamine. i carboidrati, quelli che tanto vanno di moda adesso, che praticamente ce li propongono e ce li propinano in tutti i modi, dalle colazioni fino alle cene, passando lungo l'arco della giornata con gli edulcoranti, con i dolcificanti, tutto quanto. Soprattutto quindi i cereali, lei dice, per carboidrati intende quelli, perché carboidrati ce ne sono comunque anche nella frutta. Carboidrati ce ne sono, sì, ecco gli amidi, giusto appunto è meglio parlare di amidi e non di carboidrati, che i carboidrati comprendono anche gli zuccheri, gli zuccheri presenti nella frutta, i vari dolcificanti, i vari tipi di zuccheri, dal miele al zucchero di canno e via dicendo. Ecco, i due appunto, la sua storia è quella, lei non ha mangiato ciò che tiene a posto il sistema immunitario, perché il sistema immunitario e tutti i meccanismi di difesa del nostro organismo sono su base proteica. Se non mangiamo le proteine adeguate andiamo in malore. Succedono le patologie in base alla nostra programmazione, ecco. Dottor Mosi, le proteine sono solo dalla carne o possiamo prenderle anche ad esempio dai legumi, che lei non ha citato stasera? Sì, però io penso che le leggi della natura credo che siano le leggi più strepitose, più serie, più severe, più assolute che ci siano. E la natura ha messo i pesci nell'acqua, gli animali sulla terra e gli uccelli nell'aria. E gli uomini a tutte le latitudini si sono sempre cibati di queste cose qua, prendendo poi le cose spontanee che capitavano, le bacche, i germoli, le radici. Ma non c'è altra strada. Cibo giusto e soprattutto verdura e pesce, pesce e verdura e carne giusta, perché ricordiamoci che il materiale fondamentale per le cellule sono sali minerali, vitamine e proteine. E una parte di grassi, soprattutto i grassi vegetali e quelli grassi animali adatti e adeguati. Perché come ad esempio anche ieri una persona che mi parlava di tumori che aveva una mamma devastata da due tumori, che però ha grande forza, grande energia e ci sta mettendo una pezza e mi dice ma non gli davamo una persona di gruppo 0, questa signora? Non gli davamo la carne perché insomma si sente continuamente dire che quando una persona ha un tumore non bisogna dargli la carne. Sì, gli ho detto. Non bisogna dargli la carne, soprattutto la carne rossa, di manzo, vitello, cavallo, coniglio, agnello, sia di gruppo A o a B. Date a quelle persone, dategli del pesce. Ma se sono persone di gruppo 0 e anche B, ma con la carne e con le proteine della carne, anche di manzo, ma ristabiliscono tantissime parti del loro corpo, tantissime. Le proteine, gli aminoacidi contenute in quegli animali possono giovare tantissime. Anche perché, parliamoci chiaro, l'umanità è arrivata fino al 2000 dopo Cristo, ma per centinaia di migliaia di anni, forse milioni di anni, non ha mai mangiato né latte né cereali. Ha sempre mangiato quello che la natura li metteva a disposizione. Pesci nell'acqua, uccelli nell'aria, animali sulla terra, un po' di bacche, di radici, di germogli, basta, stop. Però per cavarsela, quando si hanno i tumori, guardate, bisogna rivolgersi alle proteine giuste, alle verdure giuste, ossia i minerali, alle vitamine, al pesce giusto, alla carne giusta o eventualmente alle uova, perché tutti i meccanismi immunitari del nostro corpo viaggiano a proteine, a proteine, vitamine e sali minerali. Per cui, se si vuole risolvere qualcosa, bisogna indirizzarsi su quelle sostanze. E lì il nostro corpo può veramente fare dei miracoli, da sé, da solo, proprio autoriparandosi. Una delle caratteristiche proprio dell'invecchiamento, del decadimento, il fatto è che non c'è un ricambio cellulare adatto, adeguato. Per cui, se inoltre viene meno la materia prima per questo ricambio, e la materia prima sono le proteine, sono proteine e sali minerali. Faccio sempre l'esempio di un'automobile. Man mano che la macchina diventa vecchia, se noi non abbiamo i pezzi di ricambio, la macchina poi è da buttare. E nel nostro organismo i pezzi di ricambio sono proprio le proteine. Le proteine giuste, nella quantità giusta. E non c'è da spaventarsi per i discorsi che poi dicono, ma come? Poi dicono che la carne fa venire il tumore, poi ci sono gli acidi urici. E lei, ecco, cosa risponde a queste osservazioni? Eh sì, ci mettono in guardia sul consumo eccessivo di carne e non ce n'è uno che mette in guardia sul consumo di latte derivati del latte e sul consumo di cereali con il glutine, che se vanno a vedere quanti tumori al polmone avvengono in persone che non hanno mai toccato una sigaretta, ma che però sono forti e sono stati forti consumatori di pane e pasta, di quante persone hanno tumore alla prostata e si sono mangiati un sacco di formaggi e non hanno mai mangiato carne rossa. Io dico, sono terribile che se dicono la causa dei tumori è come tirare il collo alla gallina che fa le uova d'oro.